Benvenuti i nostri cari follower, c'è un avvertimento molto severo e urgente in Italia a partire da domani, venerdì 21 giugno 2024. Ma prima di entrare nei dettagli, spero che tutti voi ci sostegniate e incoraggiate premendo il pulsante Mi piace per questo video e condividiamo anche questo monito con il maggior numero possibile di italiani per evitare che ciò accada. Nessun disastro, grazie. Domani, venerdì, il modello europeo lancia quindi due avvertimenti all'Italia. Il primo avvertimento di un pericolo, temporali molto forti con rischio allagamenti e rischio caduta di grossi chicchi di grandine su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia-Romagna. Secondo avviso di registrazione del pericolo. Un aumento molto ampio e record delle temperature che si avvicinano o superano la barriera dei 43 gradi Celsius all'ombra e questo vale per entrambi Toscana Meridionale, Marche Umbria, Abruzzo Lazio, Molise Campania, Calabria Basilicata, Puglia Sicilia.